eccoci esattamente puntualissimi siamo in diretta qui sul nostro canale youtube buongiorno a tutti addirittura abbiamo la star finalmente segnata di venirci a trovare sono le fiere cosa devo fare? cioè questo va alle fiere, fiere di qua, fiere di là cosa che dovresti fare tu? mi chiedo sempre di te, io dico perché devi vendere partiamo con la super promozione che abbiamo lanciato proprio ieri così se avete anche qualche domanda riguardo a questi prodotti se avete qualche domanda riguardo a qualche prodotto che volete permutare magari a favore di questa nuova promozione fatecelo sapere esatto di che promozione parliamo? allora praticamente è stato fatto un grande ritiro a stock direttamente dalla casa madre, sono usfaber chi ha visto il video erano 15-17 bancali di diffusori più di una quarantina di coppie tutti della serie bella della Sonus Faber qui davanti abbiamo alcuni esempi per quanto riguarda la serie Sonetto che sono le abbiamo ribattizzate refuset dico bene Filippo? R esatto R come refuset ricondizionate ricondizionate dalla fabbrica perché? perché magari le hanno date a qualche fiera perché magari nel collaudo finale non so, c'era un drive che a chi l'ha ascoltata non convinceva ed è stato sostituito magari c'era un qualche microsegno che nessuno se ne sarebbe accorto però magari l'occhio esperto diciamo di chi le è andate a certificare se ne è accorto e le ha messe come refuset insomma prodotti assolutamente alcuno potrebbe essere anche la scatola che non è esatto la scatola che non è perfettamente a posto così tutti i prodotti insomma che sono si presentano nuovi ok uno non se ne rende conto che sono abbiano qualcosa perché effettivamente non hanno niente e lì c'è il prezzo c'è un prezzo molto interessante già noi pensavamo di avere un prezzo tra i più bassi di internet no? anzi sicuramente il più basso di internet per questa serie qua perché facciamo un gran lavoro con Sonus Faber qui addirittura ci abbiamo dato un altro taglio devo dire che la promozione è parita molto bene abbiamo avuto un'ottima risposta e non è che ne rimangono poi così tante come ci aspettavamo sì sembravano tante ma già in due giorni ne sono andate via un sacco sono andate via penso due Sonetto 5 due Sonetto 3 tutte le Sonetto 2 forse ne rimane una ma forse no il Gravis che ne avevamo due insomma di roma sono andate via Filippo ne ha aperte due ha aperto queste le Sonetto 8 che ci hanno stupito ci hanno stupito perché hanno un suono meraviglioso ok già le 5 noi le consigliavamo ed era diciamo il nostro cavallo di battaglia ma praticamente adesso si riesce a comprare una 8 non dico al prezzo della 5 ma ci si va molto vicino e queste qua hanno un impatto sonoro di ambienza veramente esagerato cioè qua ci si può suonare anche il rock proprio come si deve guardate anche che dimensioni le dimensioni sono importanti rispetto alle 5 c'è la 5 è un bel diffusore come dimensione la 8 è davvero valiatato abbiamo solo i colori belli delle 8 perché abbiamo black venghe walnut quindi c'è davvero di tutto abbiamo tutti i colori ci ha stupito il bianco Sonus Fab perché non l'avevamo mai trattato o meglio quando i clienti ce li hanno chiesto ce li avevano chiesto in precedenza le vendevamo diciamo dentro la scatola quindi non l'abbiamo mai visto ma invece è un bianco molto moderno perché è un bianco satinato né troppo lucido né troppo opaco che direi che in mezzo agli ardamenti soprattutto moderni scompaiono perché oltre a essere bellissime scompaiono anche qui Sonetto 3 in super promozione pensa che passiamo da 3.000 dimmi tutto ti dico io passiamo per la Sonetto 3 che noi eravamo già i più economici sicuramente sul web ma anche il negozio da 3.650 a 2.990 cioè vengono via altre 650 euro già dal prezzo super super scontato quindi direi che insomma sapete che noi su questi prodotti valutiamo le permute naturalmente ci sono i finanziamenti ci sono i finanziamenti dimmi pure no dico la permuta si fa sul prezzo finale 2.990 esatto sul prezzo scontato riusciamo a fare la permuta naturalmente ecco apro una parentesi c'è gente che pensa che di che noi accettiamo tutte le permute le permute purtroppo no direi che un 90% sicuramente ma c'è chi ci propone non so prodotti che al valore dell'usato si equiparano a quello che vendiamo noi nuovo in quel caso facciamo un po' fatica perché dobbiamo avere un leggero diciamo gap di cash se no non riusciamo ad andare avanti ecco questo è un po' la cosa allora ci chiedo no così dopo continuiamo con il discorso se nel ritiro c'è anche una Lumina 2 no però c'è una Lumina 3 ce l'hanno già mezza opzionata ma dovrebbe essere ancora disponibile no scusa una Lumina un'Olimpica scusate un'Olimpica Nova 2 no non c'è c'è un'Olimpica Nova 3 che ci hanno già opzionato ma è ancora disponibile vediamo il weekend sì quindi quella ci deve essere la trovi già sul sito e se ci sono delle Lumina da pavimento sì le Lumina da pavimento ieri che ne ho aperta una esatto ci sono le tre che ce ne sono parecchie due o tre o quattro coppie sì nera che vedete questa è la misura ok e queste sono le finiture la Lumina 3 cosa c'ha di bello ha il reflex sotto quindi posizionamento non c'è nessun problema ho detto bene Ruffo sì sì ho detto bene che tu non ti fidi neanche no no hai messo la manina come quando a volte si parla in fretta e si trascura bravo bravo Ruffo bravo questa qua è la finitura Venge molto molto bella e ci sono anche altre finiture tutte robe che trovate sul sito nell'inserzione con la scritta R Refused ok quindi hanno prezzi particolari la garanzia naturalmente è piena ok sono prodotti sigillati come vi ho fatto vedere nel video sigillati da fabbrica sempre che non sia specificato aperto perché vuol dire che l'ho aperta io qui in negozio per far vedere i nostri clienti ad esempio ecco per farti un esempio la Sunnetto 8 sì questa qui aperta di cui trovate già le foto sul nostro sito quindi ho fatto le foto l'abbiamo messa anche a 50 euro in meno oltre al prezzo 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 facciamo come insomma io ti penso che sia una bella promozione io adesso Davide ti faccio una domanda che secondo me è interessante allora da quant'è più o meno che hai questa attività forse 25 anni 20-25 dai 20 ai 3 2005 io ti ho conosciuto quindi una ventina d'anni ok diciamo che ordine di grandezza di fatturato di prodotti venduti hai venduto nella tua carriera di venditore decine di milioni di euro sì sicuramente sicuramente tu hai mai trovato un cliente qui in negozio per mail o online che ti dicesse ma per 500 euro ah ma 500 euro la compro nuova allora così parliamo rispondiamo un po' a delle perplessità che ci sono mostre allora esatto ho trovato alcuni clienti che hanno la loro filosofia e che io rispondo benissimo e dicono no io la voglio nuova i prodotti li vogliono nuovi per partito preso ma non ho mai sentito o meglio veramente poco dire no ma loro 500 euro non conta niente di quello non è quello o uno ha il concetto del nuovo e buona e io lo rispetto ok o uno capisce quello come lavoriamo noi se diciamo che un prodotto è nuovo no come in questi casi qua cioè le nuove hai capito e secondo me 500 euro fanno comodo tu rufo come la vedi che cosa succede dalla R all'usato allora beh intanto l'usato non ha la garanzia come queste qua che sono nuove dalla casa l'usato ha sei mesi di garanzia come da legge in un negozio non un privato in un negozio ok poi gli usati sono stati usati no questa roba qua non è stata usata cioè viene dalla fabbrica ok ricondizionata come nuova quando quando per qualche motivo ci sono accorti che c'era un micro problema l'hanno sistemato e perché dirlo allora per per trasparenza e correttezza perché sai che sai in quanti no perché mi viene da pensare che allora allora è una cosa che ci siamo detti ci siamo abbiamo deciso così noi infatti quando abbiamo comprato lo stock e abbiamo visto che questi diffusori sono nuovi sigillati nuovi sigillati precisi aperti noi che siamo del mestiere non ci siamo accorti di nessun problema niente di niente c'è venuto un attimo così però dopo abbiamo detto ma cosa facciamo ci sembra giusto li abbiamo presi come R anche per anche perché cosa voglio dire nel mercato a noi non ci piace abbassare e sputtanare un marchio così questo è il motivo per cui noi li vendiamo come R a un prezzo minore senza voler fare brutta figura con nessuno ecco tutto questo ma la verità pure semplice come abbiamo sempre visto che siamo sicuramente come volume i migliori venditori o tra i migliori venditori di Sonos Fabri in Italia venderle come nuove e farci la maggiorazione della nostra percentuale perché noi ce le hanno scontate giustamente potevamo vendere da nuove e guadagnarci di più e le avremmo vendute non sarebbe stato un problema vendere per noi trasparenza e onestà abbiamo deciso di fare questa cosa allora qualche domanda? sì ce ne sono un milione che mi sono un po' vai di pure no 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 mi viene da pensare se in Italia siete gli unici che ha la R e beh li abbiamo presi tutti noi li abbiamo presi tutti noi perché? perché facciamo un certo lavoro di propaganda e la Sonos Faber che per fortuna anche se noi passiamo tramite l'importatore abbiamo un contatto diretto credono in noi addirittura ci hanno invitato cento volte in azienda andare a vedere fare una collaborazione ancora più stretta noi naturalmente è un marco che ci piace talmente tanto che lo apprezziamo adesso il problema è Filippo non ha tempo e allora adesso prima o poi comunque vedrete che andriamo anche in azienda a far vedere qualcosa di più sicuramente ma è la mezza giornata la giornata che si perde comunque comunque ragazzi allora Giuseppe te ho già visto che stai mettendo delle mani su cose che non devi non devi mettere no non nel senso che le rovini nel senso che quelle lì secondo me ti piacciono a noi rimangono da qualche parte le hai già eh ma vediamo vabbè siamo drogati ho già sfruttato l'occasione ieri ed ho comprato delle Sonetto 2 grazie mille Giuseppe qua è un lazzaretto eh che che amplificatore abbinare alla Sonetto 2 allora la Sonetto 2 è un diffusore che adesso ve lo faccio vedere qua che tra i piccolini i piccolini no di dimensione contenuta suona da grande suona da grande eh siamo d'accordo Rufo che quindi eh era io lo sapevo che le due erano quelle che andavano via prima infatti mi piange il cuore quando le vendiamo ma dopo le abbiamo anche nuove eh sempre a prezzo molto interessante hanno il reflex davanti hanno un suono meraviglioso un bel basso puoi mettergli anche un ampli lineare cioè o meglio dipende a te come ti piace la risposta puoi mettergli un bel rottel non so anche un mickey anche un eh la serie la 1582 1592 che suonano lineare e avrai un suono perfetto no quasi stile inglese oppure puoi mettergli un advance acoustic un macintosh e hai un suono un po' più americano bello avvolgente quindi sono diffusori con cui in base all'amplificazione ci fai quello che vuoi capito ci tiri fuori il suono che vuoi e lì la loro forza ma questo lo fanno anche le tre le cinque e addirittura le otto cioè eh avendo il basso abbastanza rotondo è un medio alto non come l'electric sound software cioè percepito in evidenza diventano diffusori generici no che te li gusti in base all'amplificazione cioè te li modifichi in base all'amplificazione sono assolutamente d'accordo una se proprio uno volesse tirar fuori il massimo da questi diffusori che è un'altra offerta che abbiamo gli va a mettere Roxanne Black eh bravo eh vabbè 2000-3000 di ampli costa più della cassa eh vabbè ok beh di questo sì però già per esempio il Black con l'esonetto 3 fai un impianto stupendo che non ha non ha paragoni cioè secondo me devi spendere almeno 10.000 o 12.000 euro per andarci sopra e hai un gran un gran bel lavoro buongiorno ragazzi ci siamo sentiti ieri e sono in viaggio in autostrada per venire a prendere l'illumina 3 nel mentre vi sto ascoltando viene a prendere esattamente quelle là che quando ce l'ha detto le avevo già aperte quindi se devi prendere quindi te le guardi capisci anche tu mi piacerebbe anche farti un video mentre che le guardi così ci dice ai clienti cosa vuol dire Refused che sono nuove non te ne accorgi capita solo nelle casse queste no l'ha fatta anche Macintosh per un periodo ok e infatti le vendevamo Refused tutta la gente rimaneva veramente molto molto contenta perché insomma i prodotti erano nuovi ecco insomma poi io voglio dire una cosa se uno è un pochino furbo visto tutti i commenti anche un po' perplessi che ci sono sono arrivati sonetto partiamo parlando delle 5 perché è un po' il gioiellino la chicca quello che vogliono tutti 4.450 il prezzo a cui le vendiamo che ricordiamo che è già un prezzo super sconto da listino perché il listino è 6.300 usate queste che tra l'altro erano un usato 3.600 euro quante volte le abbiamo vendute 5 6 7 uno le compra 3.990 demo se uno è un pochino sveglio cioè venderla usata R o venderla usata nuova non cambia niente sempre usata di niente esatto se uno gli piace cambiare a quel punto lì non cambia niente perché la garanzia è di 24 mesi ed è tutto a posto cioè faccio un esempio nel momento che la vai a rivendere una usata quando è usata che sia R o che sia nuova è la stessa cosa ci rimetti veramente pochissimo perché sono tra i diffusori che stanno più in prezzo dell'usato giustamente parlate di ottimi vendite perché siete ottimi e onestissimi venditori ma personalmente ci tengo a dire che siete fortissimi anche sul post vendita ed è fondamentale ciao Iuri che è il ragazzo che ha avuto dei problemi con gli audio analog ci fa piacere comunque perché purtroppo gli inconvenienti capitano noi ci dispiace ma cerchiamo di abbiamo già fatto il pagamento da audio analog gli è già arrivata la roba là quindi è già in lavorazione secondo me vedrai che tra una settimana dieci giorni ti ritorna il tutto tutto bello preciso ho un Rotel A11 può pilotare bene l'illumina da pavimento? allora sì non sono difficili da pilotare è chiaro che come sei un po' sottodimensionato come amplificazione però Rotel suona benissimo è un ampli per me veramente centrato e vai tranquillo poi magari successivamente se ti viene voglia ci mandi una major Davide c'è un Rotel da darti dentro cosa possiamo fare un upgrade così ma vai tranquillo che ci parti più che bene ciao un saluto al grande ruffoni mio paesano vaccato Alessandro no Trasporini no voglio dire sarete in due o tre di l'altro nome quella grande metropoli di Mercantino Simone ti dice le Magnat Supreme 2002 sono ancora disponibili le dovrebbero venire a prendere oggi purtroppo sì le Magnat ancora trattate no ce ne sono capitate usate e le Magnat usate che siano le 1500 che siano le 2000 vanno via come il pane perché perché sanno tutti che sono diffusori dal bel rapporto qualità prezzo e usate ancora di più 180 euro eh cioè per mutando l'Eclipse RP5000F quanto mi costano le Lumina 3 manda una mail c'è Matteo di là che sta rispondendo ma occhio perché secondo me se arriva questo weekend con le Lumina 3 poi secondo me le abbiamo già comunque manda che te le ritiriamo volentieri perché anche le Eclipse sono diffusori che usati vanno via veramente molto molto bene cioè noi parliamo sempre anche da una coppia Lumina 3 no ne abbiamo due ne abbiamo preso due o tre cioè c'è due o quattro coppie eh ma se uno volesse acquistarvi una coppia di BW703S3 quale sarebbero le tempistiche di consegna se sono disponibili esatto dipende molto dal colore perché lì ci sono alcune colorazioni però ci sono perché Matteo ne ha ordinato per un cliente proprio ieri ne parlavamo ci sono a magazzino dell'importatore quindi direi che in due o tre giorni sono qua da noi cambiare una Silver 500 con una Sonetto 3 sarebbe un bel cambio con MSI che non so forse il Musical Fidelity si allora il cambio sicuramente è di suono andiamo a vedere anche la Silver 500 che tra l'altro 45 ritirate dell'804 di tre magari ci piacerebbe se ce le vuoi dare le ritiriamo sì allora la sede monitor audio la Silver questa qua la 500 è la più grande no uno lo può capire anche dagli altoparlanti mi spiego meglio questo è un diffusore stile inglese quindi un basso presente però abbastanza frenato direi che è il diffusore centrato per chi vuole sentire un po' tutto tutti i tipi di musica molto molto lineare molto preciso però il basso c'è perché per fortuna questi inglesi si stanno tutti spostando verso un po' il suono anni 80 al suono americano ok Solus Faber è rimasta come basso come le vecchie Solus Faber quindi avvolgente no un basso un pochino più voi perché lo so che mi prendete in giro comunque boom 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 me l'hanno detto ok mi prendono in giro però io non mi interessa è il mio marchio di fabbrica no questo invece è boom ok questa è un po' la differenza cos'è il grande pregio cioè nel senso quindi troverai un diffusore più avvolgente e il grande pregio è il medio alto delle ultime Solus Faber guardate questo twitter qua è meraviglioso lo dico sempre lo torno a dire che sia della serie lumina che sia della serie sonetto e dopo addirittura le nove sono tutti straordinari è chiaro che in base ai modelli più vai su più è raffinato più è cosa però voglio dire la base del twitter è sempre la stessa dopo viene migliorato con degli avvolgimenti delle tolleranze sempre migliori così in base alla caratura dei diffusori avanzo un'ipotesi e se il negozio fosse di ruffoni e voi i suoi dipendenti perché ogni tanto c'è e poi sparisce proprio come farebbe un proprietario sì sì magari questa è la verità di mostrare qua in nero come faccio a dimostrare il contrario ti sei anche nervosito quando hai letto quella cosa lì scusa non faccio parte allora vi assicuro una cosa ecco l'ipotesi del proprietario potrebbe essere non la sveleremo mai questa cosa magari adesso faremo dei lancieremo diciamo dei quesiti degli indovinelli per capire di questo qua però ecco come proprietario va bene come venditore in nero si viene qua noi andiamo falliti cioè se noi gli lasciamo in mano il negozio noi vi assicuro in due mesi è fallito perché non è commerciante è troppo buono è una persona buona consiglia un altro negozio sì consiglia un altro negozio insomma vai là fa così lui eh per l'altro voi dite con quell'amplificatore con quella cassa fai il top secondo me è un po' sbagliato perché dopo non cambia più voi avete bisogno di gente che cambia cioè no no è vero anche quello però insomma non cerchiamo va bene ecco io vi assicuro se per caso c'è qualche ed uno del coso della guardia di finanzi non può lavorare per noi non voglio dire fa un business è sbagliato quella del proprietario è più plausibile perché è troppo buono è troppo buono non fraintendetemi vi consiglierebbe bene è solo che è troppo buono eh anche quando lui lavora lavora diciamo fa il business con i suoi amici viene sempre inculato hai capito perché noi ce ne accorgiamo allora l'accordo qual è prima di fare qualsiasi cosa deve parlare con me deve avere il mio nulla osta perché gli dico se può andare bene oppure no il lavoro come vedete l'abbinata Denon DR-800 con le Lumina 1 che ne abbiamo parecchie anche di Lumina 1 la Lumina 1 viene fuori un prezzo mi pare 650 euro che sono praticamente queste un pochino più piccoline però non fatevi ingannare dal dimensione le Lumina 1 hanno un bufondino ancora un pochino più piccolino perché per ambienti non dico grandi però medi riescono a sonorizzare bene la 2 la 2 hai un diffusore di design ok perché queste qua veramente le donne quando vengono qua è il diffusore praticamente che piace di più alle donne perché con questa semplicità questo design moderno piacciono da mattina 650 euro sono in questo mondo di pazzi veramente un bel prezzo per un diffusore italiano ok dopo è fatto in Cina e va bene grazie va bene però è sempre italiano con il design italiano eh ah lo fanno in Italia eh benissimo ancora meglio e con l'amplificatore che hai scelto non hai detto che in Cina fanno le male le cose beh no beh certo fanno anche gli iPhone cioè voglio dire e nessuno ha da dire niente su iPhone si avrà un upgrade sostituendo dell'ecciario del Finus con le Sonetto 2 allora ah sono finite comunque le Sonetto 2 sono finite però ti spiego poi qua ci dicono che così andiamo un pochino più veloci perché c'ho 3000 domande e vorrei cambiare le Linton con le Sonetto 2 evita la differenza ti possiamo dare le Sonetto 3 perché le Sonetto 2 a quel prezzo sono finite o le Sonetto 2 nuove sono tornate nel Warfare si le Linton le Linton sono bei diffusori purtroppo molti sbagliano perché non li ascoltano prima di di comprarle no sono diffusori particolari sono queste qua uno si pensa anche l'altro giorno mi ha telefonato un cliente abituato a GBL che di trovare dei diffusori con un basso preponderante ma è il contrario sono monitor diventano diffusori monitor quindi un suono molto preciso chi gli piace il basso rotondo qui non ce l'ha però il diffusore è stupendo noi te lo ritiriamo volentieri e ti diamo un Sonetto 3 fai un sacrificio fai uno sforzo ok che lì vedrai che trovi un bel basso è un prezzo che se tu le vai a rivendere una coppia di Sonetto 3 un domani che ti stanchi le paghi 3000 euro cosa vuoi anche da noi 2002 2100 2003 ce le valutiamo sempre insomma butti via una cifra e dispiace sempre però a parte che non la butti via perché il Sonetto 3 le tieni per 20 anni massima amator ci sono no ci sono delle minima amator che aprirò in settimana quelle grafite grafite uno ci dice ruffoni portami in discoteca con te si potrebbe fare lo vedete un po' spento no perché anche ieri sera avrà fatto il 30 diavolo ma no non tanto la mia compagna che era con me mi ha detto che non è una discoteca è una ballera è diverso io non lo sapevo effettivamente ci può stare anche perché la ballera dà più diciamo un po' il tono all'età che hai sembra che vai a fare ragazzini invece vai in mezzo a gente diciamo più o meno dell'attività forse saranno un po' più giovani perché secondo me tu sarai il più vecchio o c'è anche qualcuno più vecchio di te si 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 allora fai una gran figura e a ballare come te la cavi ma no ma si fa discoteca anni 80 ma tu balli cioè te la si dopo un po' mi stupo e cosa ti dicono che hai uno slang tipo da nero oppure siamo tutti fitti non è che ah ok 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 comunque dai se vogliamo grazie ad Audiocostruzioni per l'ultimo upgrade dopo l'L100 il Macintosh MA6700 lettore cd Marans SA12S grazie a te Gianluca mi ricordo secondo me il signore di Rimini che è venuto qua a fare bello perché ci domandavamo come mai quel lettore cd ti ricordi quello che avevamo là rimaneva lì che era per forza al costo eh vabbè però dico era un prodotto molto molto interessante e hai fatto bene a prenderlo perché la garanzia era praticamente piena non c'è più no no è che costa di più dopo nuovo costa di più duetto wireless che è il nuovo diffusore lanciato da Sonus Faber è caro perché ci costeremo super da 3000 euro ma vedremo vedremo se ne salterà fuori una coppia una cosa interessante che magari possiamo fare vedere che ho fatto vedere su Instagram è che abbiamo tutta la gamma Luxman qui in negozio passiamo dalle classe AB in questo caso questo è un usato quello con i V-meter azzurri il 100 watt per canale che abbiamo questo è l'MK1 abbiamo l'MK2 il nuovo sigillato si passa secondo me è bellissimo il 20 watt in classe A che è il 550X Mark II lo capiamo che è classe A dai V-meter gialli e poi per la prima volta in questo negozio anche perché è una nuova uscita il 507Z che è quello che ha questi V-meter non so che colore è questo qua turchese non lo so non so bellissimo molto luminosi considerate che questo è chiamiamolo usato chiamiamolo demo chiamatelo come volete è stato acquistato e poi noi l'abbiamo ricomprato da un nostro cliente 0-2-10 esatto di quest'anno sì esatto esatto non l'aveva 15 giorni è uscito quest'anno quindi è uscito da qualche mese questo per chi piace il Luxman c'è un super prezzo perché è il top è il top della serie integrati 110-120 watt per canale li abbiamo anche provati io Matteo ci siamo messi qua devo dire che la scalata si sente cioè più cristallino più aperto sulle voci molto più veloce il Luxman il 507 sì sì il classe A si attesta a metà è una bella musicalità come tutti i classi A cioè uno poteva anche non ascoltarli dire quello che uno si immagina ed era così ed era così il classe B ottimo rapporto qualità prezzo un all around è molto interessante secondo me il Luxman come rapporto qualità prezzo forse uno se ci pensi dei migliori sul mercato tra i top di gamma quindi se volete fare qualche prova con Luxman vi interessa acquistare Luxman direi che siamo abbastanza forniti accoppiata Yamaha AS1002 sì che proveni lì questo amplificatore qui con quali diffusori? scusa se torno su Sonos Faber comunque questa è una macchina che suona da dio ma è lineare il medio alto è abbastanza percepito è frizzante non dico tagliente però insomma arriva bene alle orecchie quindi serve un diffusore morbido naturalmente Sonos Faber è quello che mi viene in mente di più tra i diffusori morbidi che secondo me fanno una copiata stupenda con la Yamaha è rimasta una coppia di Martin Logan e Motion 40 che queste qua hanno un bel basso un basso americano e hanno questo twitterino qua che lavora bene cioè è un twitteranastro che ti tira fuori il massimo del medio alto del Yamaha che è molto buono però ti tira fuori anche del basso e io la vedo una copiata benissimo come vedrei Rotel con questi diffusori qua anche ok e volendo anche tutto quello che è il mondo musical fidelity e Roxanne però in quel caso deve piacere il basso abbastanza avvolgente perché queste di basso ne hanno tanto Ruffo andrei a vedere Vasco a San Siro l'anno prossimo ho già hai già declinato intanto i biglietti sono già andati via quindi già finito però quest'anno l'ho visto basta devo risparmiare cosa ne pensa Ruffoni delle Olimpica 2 vecchio modello sono indeciso cioè non le conosco bene mi dispiace le Olimpica 2 vecchio modello io me le ricordo molto molto bene sono duri difficili da pilotare esatto sono diffusori difficili da pilotare mi ricordo che le ho vendute a Milano a un ragazzo che è alto così e giocava in A2 di basket no e lui gli aveva venduto le 1 no mi disse che aveva 20 amplificatori fa guarda ho dovuto lavorare come un matto per trovare la copiata giusta erano diffusori che se accoppiati giustamente in maniera corretta ti davano un suono incredibile ma appena sbagliavi facevano l'effetto un po' radiolina ecco però grandi diffusori con la nuova serie l'hanno sistemato quel problema lì perché hanno capito anche loro che insomma bisogna fare dei diffusori che accettano tutte le amplificazioni insomma vi ricordo se volete supportarci che è una cosa assolutamente gratuita e ci mettete un secondo se volete mettere un bel mi piace a questa diretta noi ci fate assolutamente contenti ci chiedono un Roma 96 che è il piccolino della Synthesis come andrebbe qui per farvi vedere un Synthesis questo genere di prodotti qui italiani non l'abbiamo qui in negozio quello che vedi tu è il soprano e come andrebbe con le Lumina 3 molto molto bene per chi non lo conosce noi non l'abbiamo adesso cioè è questo modello qua stretto lunghino così sempre quattro valvole cioè due L34 per canale il 96 mi pare che abbia anche l'ingresso Fono se non vado errato probabilmente ecco va sicuramente benissimo perché la L34 i cinesi dicono che è la regina delle valvole perché perché non ha né un basso esuberante come la KT88 o la 6550 no che è un basso proprio americano molto molto in evidenza ha un medio alto un pochino più raffinato sempre rispetto a questo è chiaro ha meno corrente della KT88 però è una gran bella valvola ti spiego però una cosa se per caso non ce l'hai il Roma ancora con le L34 tu ci mandi la mail ne abbiamo alcuni prima o poi decidiamo di fare una promozione su questo modello più grande 753 quindi ti scusa l'interruzione ma qui abbiamo Matteo che continua a rispondere mail mette un post it sopra vendute le sonette 8 non si fa vedere il nome per privacy che è importante anche la privacy vendute scusami no no giusto quindi se ti interessa possiamo iniziare la promozione con te con questo con un 753 hai capito non guardare questo prezzo possiamo fare molto meglio va bene comunque vedete ragazzi con che velocità fanno via queste sonette Davide non ci credeva tanto all'inizio è sempre un po' restio sulle promozioni grosse no allora io io ho le mie fisse giusto quando l'abbiamo fatto su GBL perché in giugno luglio avevamo fatto un'operazione simile più piccolina però su GBL ci credevo a a no 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 non eri così spavaldo no ci credevo sei spavaldo adesso ma non eri così spavaldo andiamo dopo magari a chiedere a Matteo in ufficio ma non eri così spavaldo no ero più più convinto delle cose queste perché perché sono diffusori come meno da da Davide meno da Davide meno da Davide è giusto è giusto ognuno ha le sue e quindi è giusto è giusto però tu hai quindi hai l'accordo del parere non di un grandissimo commerciante che ti dà supporto quindi non so se se è un dopo si può essere tutto sempre va bene a parte gli scherzi parliamo un po' di Milano della Fiera che vedo che che fanno delle domande ciao Davide e Ruffo mi ha fatto piacere incontrare Ruffo a Milano nella sala Macintosh più Stradivari che sono nella nuova serie Sonus Faber devo dire che non mi hanno entusiasmato timbrica molto piatta e bassi assenti Ruffo cosa ne pensi? l'ambiente era quello era scarro cioè vogliono ambientate non si può sentire bene bene tutto sono certe sale che si sentivano in una maniera per me era un grande suono però comunque comunque quella dimensione quella struttura lì di diffusore la Sonus Faber io non ho sentito gli Stradivari ma ho sentito quelle che c'erano prima sempre la vecchia serie che faceva tutta una serie così non è il basso che troviamo per esempio in una Nova 3 in una Sonetto 8 così è un pochino un basso hanno voluto fare un diffusore più verso l'inglese cioè è un basso un po' più fermo però sono bellissimi esteticamente ti piacevano quella era la finitura forse quella meno riuscita perché la finitura vengè risultava un pochino meno ma quella in finitura graffita o in finitura red sono uno spettacolo se qualcuno dovesse essere interessati ragazzi noi ve le possiamo reperire è chiaro che parliamo i diffusori da non lo so da tanti 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 euro diciamo che comunque Sonus Power ha azzeccato tutte le forme tutto il design che c'è adesso deve avere due maroni così perché piacciono a tutti che siano le Sonetto che siano la serie economica anche la la lumina ha il suo perché di design per non parlare di quelle robe lì che sembrano alcuni li hanno paragonati alle barche in riva anche dei nostri clienti proprio l'altro giorno che sono venuti sono proprio bellissime mi piacerebbe la stradivaria il diffusore che tanto se avessi i soldi ma se avessi lo spazio mi piacerebbe mettere la casa mia e poi se avessi anche una casa diciamo che ancora non c'è comunque se qualcuno dovesse volerle qui le facciamo arrivare e ve le possiamo sia far vedere che ascoltare nel caso vi dovesse interessare l'impianto di ruffoni oggi siamo scarsi molto scarsi molto e allora niente non siamo stari sto sono in una fase no rem aspetta che c'è Matteo che vuole la parola voglio lanciare una bomba posso? no perché sto rispondendo alle mail è arrivata una mail interessante naturalmente non dico nomi non faccio niente però è una cosa che dopo sicuramente approfondiremo anche in settimana abbiamo fatto un preventivo un signore che è venuto anche ad ascoltare per una copiata pre finale Accuphase e abbiamo fatto tutte le tira e molla preventivo di qua preventivo di là il signore giustamente ha fatto un po' di preventivi in giro per l'Italia e ha trovato un prezzo un po' più concorrenziale del nostro parliamo su un acquisto penso da 15.000 euro neanche 1.000 euro di sconto che sono sempre 1.000 euro però su un 15.000 non è tanto adesso mi mando una mail che purtroppo il venditore l'ha truffato bello questa notizia che mi dai mi dispiace per lui ma mi piace questa notizia mi dispiace ha detto che dopo è andato con avvocati perché aveva fatto l'acquisto come partita IVA perché doveva metterlo nella sua sala d'ascolto in azienda e sono riusciti a recuperare e mi immagino però che abbia speso più di 1.000 euro di avvocato per quel signore che è venuto ad ascoltare il Macintosh dopo ne parliamo insomma ha ascoltato tanti impianti va bene diciamo che questa è una cosa su cui noi ci focalizziamo molto anche nel discorso che facevamo prima delle Sonus Faber e qualche uno che mi dice ah si trova a 10 euro in meno dall'altra parte del mondo e poi dopo se c'è un problema e poi dopo se non ve le mandano e dopo se vi truffano noi siamo qua abbiamo la faccia ci mettiamo la faccia Filippo lo vedete tutti i giorni anche troppo fin troppo Davide lo vede tutti i giorni me mi vedete un po' meno Ruffoni lo vede tutti i sabati se truffiamo una persona o facciamo un errore con una persona i social cioè ci danno una risposta immediata quindi ci saremo morti ma voglio anche farvi capire una cosa l'ordine che abbiamo fatto di Sonus Faber che avete visto il video adesso a sinistra si parla di quasi centinaia di migliaia di euro ecco così di botto un ordine oltre i centinaia nessuno nessuno ci ha detto ma un anticipo ma qua ma là adesso a sinistra pagamenti irregolari come abbiamo sempre fatto ok quindi abbiamo anche la fiducia di queste grosse aziende queste multinazionali perché credono in noi perché abbiamo sempre pagato perché non abbiamo mai mandato indietro una ricevuta bancaria in 20 e passa anni è interessante che si fidano sia il cliente sia gli importatori anche come ci ha detto Yuri che ha avuto un problema con gli audio analog che purtroppo so che succedono ci hanno chiesto così di botto 1200 euro per riparare 1500 euro 1500 euro con bonifico anticipato dalla fabbrica ma anche qui forse il giorno ne parleremo va bene noi in quanto abbiamo fatto arrivare il bonifico istantaneamente quindi abbiamo e come ha detto Yuri è rimasto contento lo spero bene abbiamo anche un finale nuovo quindi è ancora meglio per lui abbiamo solo tutto mi piaceva fare questo punto focalizzare questa bomba a fine video perché senza fare nomi ovviamente non riesco a capire come fa a truffare era finto no finto sai ti fai ti fai mandare un acconto tipo non so del 30% e poi dopo non gli è mai arrivato il prodotto hai capito dopo magari il venditore dice ma arriva il mese prossimo e dopo il mese prossimo non arriva e dopo arriva il mese dopo ancora il mese dopo ancora che può succedere a volte magari c'è un problema in fabbrica però insomma diciamo che quel finale quel prodotto che vuole questo signore casualmente noi ce l'abbiamo là di là in magazzino però va bene questa è un'altra storia questa è un'altra storia lascio la palla a voi torno a fare le mie cose va bene saluti grazie per l'intervento stamattina appena svegliato ho visto su instagram l'offerta per le sonetto 2 non ci ho pensato due volte confido che col mio Rotel 15.82 MK2 vadano a nozze vi lo faccio vedere il Rotel perché ce n'abbiamo uno anche aperto ho visto che ha fatto l'ordine infatti che appena siamo arrivati questa mattina alle 7.40 quindi ci fa davvero piacere vedrai che fai di sonetto 2 io lo sapevo che ne sono arrivate tre o quattro coppie sono andate via subito sono le più diciamo gettonate ecco questo qua è il Rotel che ha il nostro diciamo amico cliente è bellissimo perché è un 120 watt costruito come si deve qua adesso vedete con la plastichina bianca però ha tutto vedete quale razza di ingressi USB AUX ottico coassiale speaker A speaker B qua ci possiamo collegare l'iPhone c'ha il fono l'iPhone va solo con l'iPhone qua però per chi ha l'iPhone può anche caricarlo da lì ecco perché fa anche da ricarica ecco per dire comunque l'abbinata Rotel Sonus Faber è è azzeccatissima negli Stati Uniti la distribuzione di Rotel e Sonus Faber è insieme infatti se voi andate a vedere in Sonus Faber le foto che mettono oltre che con Macintosh spesso hanno anche tutti i prodotti Rotel che provano assieme alle Sonus Faber i Nici ma anche gli MK2 li vedo spesso abbinati secondo me l'abbinata è bellissima si ci sta da Dio ci sta da Dio gli da un po' quella velocità e quel quel brio io ragazzi penso che dimmi tutto siccome a me piace l'IEN ho visto un cd della Cufase si andiamo a farlo vedere bravo è entrato si oggi ci siamo un po' soffermati molto in Sonus dopo nella prossima direzione parleremo con un altro questo qua è di un nostro super cliente che spero che ci segua Franco di Sassuolo che oltre a essere simpaticissimo molto colto di tutto un po' lui è un tante cose ma belle perché si va a documentare spiccio si va a documentare legge molto ce l'ha dato dentro perché lui gli piace cambiare ha solo quella passione lì purtroppo non ha figli insomma così i soldi li investe dove vuole lui insomma e gli piace cambiare quando viene qua sto sempre qua delle orette con noi a chiacchierare ci fa anche tanto piacere ci ha dato detto questo qua ecco naturalmente come nuovo l'ha usato pochissimo ve lo consiglio veramente tanto a Milano i fai a cufaista noi miglior ascolto ci fa piacere il feedback noi ragazzi penso che avete sentito che è già suonato il campanello siamo già pronti per fare il nostro lavoro che se no le dirette non si fanno più noi vi ringraziamo per averci seguito finalmente è tornato Ruffoni ci sarà il sabato prossimo dovremo un'altra scusa ma no ah ok stavo scherzando dai adesso speriamo anche di inglobare nelle dirette di sabato qualche di un altro vogliamo chiamare Daniele riparatore così ci parla anche un po' di tecnica vorremmo chiamare Marcello ma quello sarà un pochino più duro che vende i dischi così ci racconta le ultime uscite proveremo a fare dei sabati un pochino più comunque vedo che la risposta è ottima perché abbiamo fatto anche il record di persone che ci hanno seguito qui su youtube e quindi molto bene si può guardare anche sulla tv oggi stamattina ho impostato su youtube per mia moglie che è tutta felice perché la vedeva sullo schermo grande ecco ci guardiamo noi vi ringraziamo e ci vediamo sabato prossimo e tutti i giorni sui nostri pagine social ciao ciao